Sono contento di essere tornato in campo, mi mancava giocare, ho avuto anche sensazioni abbastanza positive, mi spiace soltanto che non sia coinciso con la vittoria della squadra. Sì, sono contento che il mister abbia questa considerazione di me e spero di poter ripagare la sua fiducia. Sì, così come noi magari non sono in un momento brillantissimo, però è una squadra tenace, che non molla, è andata sotto in casa di due gol e è riuscita a recuperare negli ultimi minuti, quindi non sarà una partita facile, ma noi ce la metteremo tutta per portare a casa il risultato. Sì, non dobbiamo abbatterci sicuramente perché questa via di stagione non è stata come volevamo, dobbiamo reagire, dobbiamo reagire subito, sabato è la migliore opportunità per farlo e quindi siamo concentrati sul lavoro e sulla partita di sabato. Sì, ma guarda, non è tanto importante giocare in casa o fuori casa, noi dobbiamo entrare sempre con la stessa mentalità, sicuramente in casa saremo aiutati e supportati dal pubblico, quindi avremo magari una marcia in più, però la mentalità deve rimanere la stessa.